fate un saluto per il gruppo eeeh tanta roba eeeh ciao mamma sono finale fa un freddo porco siamo freddi e rigidi come delle spigole sul banco del pesci vendolo hai fatto questa bella ripresa con la telecamera chiusa meno male che te ne sei accorto vabbè guarda è il primo drop oh chi fa le chicken line o un baguscia eh? eccalo wuhuu take the best way wuhuu aaaah che bufali oi 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 Merda! Chicken line! Eh, questa l'ho presa! Questo no! Ohlele! Uh! Marron! Juhu! Uh! Eh! Bello, veloce! Oh! Grande! Tutti giù! Ciao! Vado! Più incazzuso qua, eh! Qua è stanzugissimo! Edo su! Ohè! Cosa hai visto? Tutto a posto? Sì! Meno male, ti vedevo ridere! Ho presa io! Dove cazzo siamo finiti qua? Si chiama Kill Bill? Eh! Tutto! Perché alla fine muori! No! No! Cos'era? No! 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 Prendi! Oh! Oh! Non so! è fine! Guarda di qua il cacciatore, sono tutti difficilissimi mi ha detto Parte molto tranquillo No ragazzi Bravissimo Mentre ti sei sparato con un jolly Madonna L'ho visto L'ho visto Opla Occhio lì No no questo è se tre tranquillo proprio Dai dai che è alla fine Occhio Occhio No 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 Yeah Sai quando abbiamo festeggiato che eravamo vivi? Eh ma a giornata beh staying alive direi che oggi è appropriato allora venite a presto a me e madre natura madonna madonna way wow grandi faccio la bici? vai fammi provare questa bici verde ma si va via voilà super flow wow hai visto? 1000 abbiamo finito oh è il dio che la manda eh si è la ricompensa della giornata matta sì matta sì Grazie a tutti.